Un incendio divampato questa sera, mercoledì 27 giugno, intorno alle 20, in un capannone della CDU, azienda di raccolta rifiuti, situata in via Castagna-Durento. Le fiamme hanno avvolto un cumulo di materassi ed ingombranti. Sul posto hanno operato diverse squadre di vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, Veneria, Torino, Rivalta, Grugliasco, Alpignano e Rivoli. Non si esclude la matrice dolosa, indagini in corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.